Previsioni Oroscopo Paolo Fox Paolo Fox ha appena svelato le previsioni di oggi 19 aprile 2018. Quali segni si aggiudicheranno le 5 stelle? Prima dell'oroscopo di Paolo Fox, spazio a giochi, interviste e rubriche condotte da Giancarlo Magalli, Jody Tonio, Laura Forgia, il professor Umberto Broccoli, il colonnello Morico, e il maestro Demo Morselli che dirige l'orchestra. Paolo Fox ringrazia sempre i telespettatori di Rai 2 per l'affetto con cui lo seguono, e li invita a non credere all'oroscopo ma a verificare. I conduttori, durante l'oroscopo, interagiscono con Paolo Fox con domande, gaghe e battute. Spesso interviene anche il comitato nella persona di Michele Guardi. Oroscopo Paolo Fox, 19 aprile. Le previsioni di oggi Le previsioni zodiacali di Paolo Fox sono molto attese dal pubblico di Rai 2. Paolo Fox assegna due stelle all'acquario. È una giornata sottotono. È un segno egocentrico che vuole farsi amare mettendosi in gioco. È molto disponibile nei confronti degli altri. È stanco. L'estate sarà interessante. 2 stelle per l'ariete. È un po' preoccupato. A volte è intrattabile. Non riesce a nascondere i suoi sentimenti. È un tipo diretto. È un po' arrabbiato in questi giorni. 3 stelle per lo scorpione. È una settimana alta allenante. Stanchezza e tensioni in corso. Giove nel segno porta belle novità. Soddisfazioni a luglio. 3 stelle per i pesci. Sono forti ma stanchi? A volte si lamentano senza motivo. Non devono fare le vittime per attirare l'attenzione degli altri. 4 stelle per il cancro. Forse non riesce a trovare un accordo. Giove favorevole. Attesa snervante. Deve fare qualcosa per se stesso anche a livello esteriore. 4 stelle per il leone. A volte è timido e schivo. Ha bisogno di ricevere consensi. Vuole emergere. Deve farsi valere. Paolo Fox, oroscopo di giovedì 19 aprile. Le stelle su Rai 2 e l'oroscopo di Paolo Fox fornisce suggerimenti preziosi su amore, fortuna e lavoro. 4 stelle per la Vergine. Bel cielo. Non ci sono grandi novità. Piccoli disagi. Condizione particolare. 4 stelle per la bilancia. A volte i ricordi fanno male. Deve decidere cosa fare. Fase di insofferenza ma belle conferme in arrivo. 5 stelle per il toro. Bel cielo, incontri importanti. È un buon anno il 2018. Deve andare avanti da solo. 5 stelle per i gemelli, favoriti gli incontri. Buon momento per i progetti di lavoro. 5 stelle per il sagittario. Deve fare scelte importanti entro l'estate. Deve lottare. Progetti in vista. 5 stelle per il capricorno, è più forte anche interiormente. Ha grandi qualità. Cliccando qui è possibile consultare l'oroscopo di Ghiè.